Ciao a tutti e benvenuti in questa video presentazione del nostro pack Eurospand disponibile da questo momento sul nostro sito allora, piccola parentesi, non vi sto a spiegare il perché perché abbiamo già fatto un post e ho fatto un video in cui ne parlo anzi, un video in cui parlo di come scaricare la mod e abbiamo fatto anche una live in cui parliamo del motivo quindi non voglio ripetere, al massimo vi lascio il collegamento qua nell'angolo in alto a destra dovrebbe essere del video di come scaricare le mod e se riesco anche della live in cui ne abbiamo parlato comunque, scusate, mi stavo affogando allora, vediamo velocemente la mod questo video durerà giusto 5 minuti vi mostro la mod com'è e basta la faccio vedere un attimo al lavoro, vi faccio vedere cosa c'è dentro e via allora, dentro al pack c'è il carrello praticamente è lo stesso pack del 19 convertito con un aggiunto che adesso vedremo allora, c'è dentro il carrello non fate caso qua adesso che vedete due ganci che è un piccolo bug, ma è della versione che ho io che è una versione vecchia, la versione pubblica non ce l'ha ok? quindi questa cosa non ce l'ha la versione pubblica io ho ancora una versione vecchia qua in cartella mod il carrello semplicemente che si può collegare, si può abbassare la scaletta e qua sopra si collega uno degli spandi concime si può usare anche altri spandi concime, non solo gli euro spand sul carrello però giustamente anche l'occhio vuole la sua parte, ci sta meglio il suo liberi di usare quello che volete poi ci sono i modelli, ve li faccio vedere anche allo shop ci sono il jolly, il crono, il pix t e c'è il nuovo modello che è il compact fruit questo qua sono in versione cavallo, c'è anche la versione euro spandolo ovviamente adesso li vediamo nello shop allora abbiamo il carrello che ha le stesse configurazioni del 19 c'è gomme, trelleburg, c'è la musica no grazie c'è la standard e larghi della trelleburg e poi c'è le lizard che sono le ruote di ferro per le risaie, adesso non ci sono ancora le risaie però ci sono già per il futuro abbiamo lo zeus o jolly dipende dal marchio scelto perché infatti abbiamo come configurazione a parte l'ampliamento cioè senza niente che tiene 1400 oppure 2000 con l'ampliamento piccolo tiene 2000 litri e marchi c'è cavallo che è rosso e nero oppure euro spand che è grigio e nero cambia che lo zeus è la versione cavallo e jolly è la versione euro spandolo poi abbiamo l'elettra o crono sempre stesse configurazioni quindi hanno 1800 in questo caso senza ampliamento e 3000 con l'ampliamento questo è un pochettino più grande sempre versione cavallo cavallo secondo design perché ci sono due design in questo e euro spand che in questo caso è l'elettra poi c'è il pxt che il pxt attenzione non è come nel 19 uno spand con cima ma è uno spargi sale cioè senza ampliamento che tiene 800 litri c'è l'ampliamento piccolo da 1200 litri sempre in versione cavallo o euro spand qua potete selezionare voi il colore invece potete farlo come vi pare questo 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 qua vi ripeto uno spargisale no adesso no fermo non devo in più l'aggiunta il david fruit o compact fruit in base alla versione è questo questo qua è la versione per i vigneti c'è senza ampliamento che tiene 600 litri con tiene 800 col piccolo e col grande tiene 1000 ha un'area di 5 metri quindi prendete fa una fila praticamente e sempre marchi c'è cavallo che è il compact oppure euro spand che è il david sempre questa versione qua ok li abbiamo visti sto cercando di andare velocemente per non dilungarmi troppo allora per chi fosse un po ignorante ignorante nel senso che non è magari esperto che non non c'è non riesce a capire subito come caricarlo semplicemente adesso siamo da pc adesso ho schiacciato un tasto che non dovevo l'ho lanciato via ma semplicemente per metterlo su se vogliamo fare i cittoni possiamo fare con la super forza e metterlo su oppure c'è il muletto c'è il bancale si prende su col bancale lo si appoggia qua poi si sale sul trattore e si aggancia semplicemente e adesso l'ho messo qua ma non mi voglio neanche dilungare troppo ve li mostro un attimo al lavoro vi faccio vedere prima quello da vigneto siamo qua col fendino qua nel nostro vigneto vediamo che lavora vedete che sparge e lui vi concima vi fa la concimazione fila per fila quindi potete fare una fila sia una fila no perché poi comunque è concimato anche di qua quindi andiamo giù di qua se riesco senza buttare giù i filari e la nostra vigneto è concimata semplicemente così passo all'altro velocemente abbiamo di qua al bottino e poi buttiamo la calcio così si vede anche di più c'è l'area di lavoro la solita che di base è 36 metri vedete sezionabile c'è la parzializzazione quindi con la che tasto era control z si può ridurre a 28 metri a 24 a 18 o a 12 addirittura quindi come quali di default c'è tramite il mouse nel carrello questa è una cosa del carrello la possibilità di allargare o stringere la la distanza tra le due ruote e basta c'è questo c'è la la scaletta con la x dovete dispiegarlo e basta è tutto qua dopo sono stato spero di essere stato chiaro non è che ci sia tanto da spiegare più che altro era il video è per dirvi guardate che la mod adesso è disponibile la potete scaricare e nel caso ci sia qualche dubbio comunque qua vedete com'è e basta vi lascio il link in descrizione ovviamente della mod comunque sul nostro sito vi ricordo che la mod è gratuita non spaventatevi se vedete dai un prezzo non mi ricordo esattamente cosa è scritto è un prezzo potete mettere tranquillamente zero e l'avete gratuitamente basta che mettete una cifra se non mettete niente non ve la far scaricare dovete mettere se la volete gratis zero è gratis se no mettete quello che volete voi senza nessun problema io ho finito vi saluto vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo in un prossimo video ciao